Carta stampata, rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola. Carta stampata, rassegna stampa delle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola. Conte, quattro voti per non cadere, Navalny atterra Mosca e Putin lo arresta, Biden archivia Trump e riparte dal clima. Passiamo a Libero, Mattarella se ci sei ora batti un colpo, Continaola raccoglie i cocci, i renziani accusano, l'avvocato usa gli 007 per non cadere. L'amico del giaguaro, Monti suggerisce più tasse per tutti, noi ultima speranza di democrazia, Meloni centrodestra, Algi nella dittatura di compagni e social. Continuiamo con il giornale, governo in crisi, intrigo finale, 007 generali a caccia di voti per Conte, Monti shock, basta ristori, l'ex premier, lo Stato favorisca la chiusura delle attività. Salvini ha processo per Carola, l'ha definita fuori legge, Moratti scrive a Speranza, sospenda la zona rossa. Continuiamo con il fatto quotidiano, il premier fiducioso sui numeri, discorso per convincere altri, Segre sono indignata, vado a Roma per la fiducia a Conte, intervista, un viaggio anche senza vaccino, Italia in pericolo, trading online, il virus fa perdere testa e soldi. Lasciamo il fatto economico, passiamo alla verità, le trame di Conte dietro le quinte, domani al Senato l'esito del mercato delle vacche, Renzi prepara il blitz, nascosti i dati sui farmaci anti-covid, rapporto shock sulla sperimentazione, il 70% dei centri di ricerca italiani non divulga i risultati in modo corretto, fra di loro pure Spallanzani e Sacco, la mail che ordina ai medici vaticani di silenziare il Papa. Lasciamo la verità e passiamo al tempo, il governo degli irresponsabili non si cambia, la sfida di Salvini, Conte cadrà e toccherà a noi, Zingaretti si inventa la lotteria del vaccino. Proseguiamo con il messaggero, Pfizer, contratto beffa per l'Unione Europea, gli arresti dorati di Lady Huawei, shopping e palestra anche se ai domiciliari, Conte avanti anche per un voto, ma PD e Movimento 5 Stelle non può reggere. Lasciamo il messaggero, passiamo al resto del Carlino, nessun alibi si può tornare a scuola, oggi alla Camera parte la sfida, l'ok con l'altra conterrenza, alla fine ci sarà un unico vincitore, in palio c'è il futuro del Paese. Lasciamo il resto del Carlino e passiamo al mattino, il quotidiano di Napoli, Conte, l'allarme di PD e Movimento 5 Stelle, vaccino Pfizer, il contratto che beffa l'Unione Europea. Proseguiamo allora con domani, la tradizione del futuro deve sopravvivere anche al Covid, la fiducia non è tutto, a Conte adesso serve una quarta forza. Lasciamo domani, passiamo a Leggo, ritorno in aula con Sciopero, ma quale dad chiamatela pure Mum, rischio caos rivolta nella capitale giungla degli orari turni impossibili, in corsia il vaccino è d'obbligo, lasciamo anche Leggo e passiamo a Il Foglio, le mille vite di Giuseppi, leggere nel pensiero di tre leader per capire dove va la legislatura, i giornali locali, iniziamo da Il Gazzettino, il quotidiano del nord-est, vaccini, irradizzaia, vergogna, PD e Movimento 5 Stelle, Conte, senza centosessantuno, sin senato, il governo non regge, Isabella, il fratello, la villa del delitto, continuiamo con La Gazzetta del Mezzogiorno, corta e serrata, i responsabili, Renzi non hanno i numeri, Lucano De Filippo ha sbagliato a rompere, Puglia, pochi vaccini, contagi su Basilicata, una stanza a bracci, la stagione delle nomine. Proseguiamo con l'Unione Sarda, dimezzati i vaccini per l'isola, governo sul filo del rasoio, Conte adesso evoca le urne. Lasciamo l'Unione Sarda, il secolo XIX, il governo, riaprite le scuole, toti, folle in zona arancione, la nuova diga di Genova penalizza i piani dell'aeroporto, Garibaldi, la porta aerei che vuole lanciare i satelliti. Passiamo all'Eco di Bergamo, Letizia Moratti, l'ordinanza Speranza va sospesa subito, ma Luca Lorini avverte che dovremmo restare chiusi, l'RT all'arma ancora. Sprint a fine 2020, donazioni in risalita, Avis, adolescenti, transi e isolamento, in forte aumento, le richieste di aiuto. Passiamo al Tirreno, clienti a cena, multato, il titolare ho sbagliato ma siamo tartassati, finalmente siamo immuni, fatta l'iniazione di richiamo ai primi medici, così battiamo il Covid. Proseguiamo con il piccolo, il quotidiano di Trieste, dosi di vaccino tagliate, si ferma la campagna, da domani garantiti solo i richiami, Federica, noi penalizzati, serve più equità, l'Osato non salta il governo, i fondi per Trieste sono al sicuro, poker dell'Allianz va oltre i cento e batte Cremona. Lasciamo anche il piccolo, passiamo al messaggero Veneto del lunedì, dosi di vaccino di mezzate, sospese le prenotazioni, ritorno in classe, la regione si scontra con Roma, la Gazzetta del Sud, maggioranza relativa, la chance di Conte, messina da oggi l'ordinanza De Luca. Proseguiamo con il mattino di Puglia e Basilicata, the final countdown, la caccia finale ai numeri per salvare il governo, i cambi di casacca non sono una novità, dall'inizio della legislatura se ne contano 147. Scuola Emiliano nella bufera. Continuiamo allora con il quotidiano del Sud, Europa e Sud delle due carte di Conte, si torna a scuola e la DAD va sotto accusa, il medico anti-covid basta teatrini. E allora passiamo alla Sicilia, resta in famiglia, primo giorno in zona rossa, in Sicilia, in città quasi deserte, la regione scioglie i dubbi, si possono visitare i parenti ma solo per motivi di necessità o ragioni legate alla salute. Conte ora alla sfida, si sposta in aula, il PD e i deputati, Italia Viva votate con noi. Lasciamo la Sicilia e proseguiamo con l'Adige, Federico non ce l'ha fatta, è morto Costantino, maestro di sci, aveva solo 40 anni, rubate auto e bici elettriche, furti in serie a Monte Vaccino, colpite 20 abitazioni. E allora è il momento di il centro, Rigoppiano, 4 anni di dolore, Samuel 11 anni, una sorellina e ama la neve, ha perso i genitori e adesso lavora sulla ricostruzione ai vaccini, covid si prenotano da oggi ristoranti, così resistiamo alla crisi. Continuiamo con il Corriere dell'Umbria, vaccini, nessun taglio all'Umbria, ancora neve a Gubbio col Bob, all'Unistra chiesto commissario ad Acta, passiamo ai giornali economici, uno sguardo a il sole 24 ore, quotidiano economico, dunque il covid infiamma le liti Stato-Regioni esposte a suitare il contenzioso, fondi Unione Europea 38 miliardi da spendere, cartella un rating per mille miliardi, ancora non recuperati, mutui, rate congelate per 548 mila famiglie. Passiamo a Italia Oggi, credito PMI, effetto covid, condominio rischioso, convocare l'assemblea tramite email dai profili falsi ai contenuti illeciti, rimossi da Google, 2 milioni di url. Chiudiamo con i giornali sportivi, iniziamo con la Gazzetta dello Sport, gode l'Inter, Juve dominata nella supersfida, gancio in vetta, in Milan che fa, arriva Mandzukic, Toro una svolta per la panchina, Gianpaolo va via, c'è Nicola in Pol, incredibile Bassino domina ancora il gigante, sono 4, ho anche pianto. Passiamo al Corriere dello Sport, Conte spegne la Juve, dominio Inter, Vidale Barella firmano il successo, rotto Calmina, la mia Inter quasi perfetta società, sapevo da agosto. Partita doppia per Pioli, Mandzukic e il Cagliari, Napoli travolgente, Fiorentino, Migliata, svoltatoro, licenziato Gianpaolo, arriva Nicola. Tutto Sport, c'è solo l'Inter, Juve e Doveri, provaci ancora Davide, Gianpaolo esonerato, Nicola chiamato a salvare il Toro dopo le imprese con Crotone e Genoa e la magia del 2006. Cagliari-Milan, Calateo-KO, mai arrivato Mandzukic, Bassino favoloso poker, meno 9 al Vertice-Cio, Palazzo Chigi e le Isole Figi. È tutto per il nostro appuntamento con la rassegna stampa che ritorna puntuale come al solito domani, alla stessa ora.